Ho da poco terminato una riunione via Skype con il prefetto Forze dell'Ordine e ASL per fare il punto sulla situazione coronavirus. Innanzitutto voglio dirvi che si sta lavorando per riaprire al più presto il pronto soccorso di Ariano, anche per alleggerire il lavoro del Moscati che negli ultimi giorni è diventato sempre più gravoso. Per ciò che concerne la nostra amministrazione, stamattina giornata storica, abbiamo ottenuto la prima riunione di giunta in videoconferenza. Non solo ci adeguiamo ai tempi, ma soprattutto rispettiamo pedisseguamente le prescrizioni previste nei DPCM e nelle ordinanze regionali. Continua anche il lavoro che sta svolgendo la misericordia sotto nostra indicazione e sollecitazione di consegna dei medicinali e dei generi alimentari ad anziani diversamente abili, persone meno abbienti che hanno difficoltà a spostarsi da casa e che preferiamo rimangano nelle loro mura domestiche. Stasera e domani controlli serrati per evitare affollamenti, assembramenti ed è per questo che faccio appello, come ho fatto già nei giorni scorsi, soprattutto ai giovani ma anche alle famiglie, rimanete a casa. Recuperiamo anche un po' quel senso, quel calore familiare casalingo, trascorriamo qualche ora più insieme, parliamoci, confrontiamoci, anche se c'è qualche questione per ridere insieme, per divertirsi, per parlare anche di problemi, di questioni più serie, ma facciamolo a casa nostra. Non spostiamoci e diciamo agli amici ci vediamo prossimamente, tanto ci sarà tempo, anzi più rimaniamo a casa, più breve sarà il tempo che dovremo attendere per riprendere le nostre abitudini e poi stasera alle 18.30 illumineremo con il tricolore il Palazzo del Vescovo. Serve anche speranza, ottimismo, verremo fuori da questa condizione complicata, ce la faremo anche stavolta, ne sono sicuro e torneremo più forti di prima.